E quindi... E quindi? No, no, Luca, lui! Ah, un pesco! No, no, è qui davanti che è arrivato un po'. Avremo l'onore di averla sul palco. Lo so che è un po' una... Ecco, appunto, lo so. Lo so che è un po' una fatica venire sul palco. Se vuoi dirci qualcosa, ben volentieri. Ok. E niente, vi ringrazio tutti per aver partecipato al contest dei cosplayers. Speriamo che la qualità, insomma, la ritroviamo nei premi che stiamo dando. E ci ha colpito particolarmente un costume, in effetti. Quindi non abbiamo avuto, in realtà, nel nostro campo... Si è un po' ristretta, diciamo, la scelta. Perché noi premiavamo il miglior costume a tema cinematografico. Certo. E ce ne sono stati un paio in particolare che ci hanno un po' reso difficili di investire. Vi sono piaciuti? Sì. Ok, benissimo. Allora, siete pronti? Andiamo con Speziale Movie che va... La ora, la ora, la ora, ragazzi, la ora su... Numero 8, Luca con Valenzi! Come si è rimasto? What's going on? Complimentissimi, Luca. E i premi chi dice, là? Adesso, magari vieni, ti diamo i contatti e ti giriamo il due... Grazie ancora a Luca, fantastico, un applausione! Grazie mille, a tutti e due Luca! E a tutti e due Luca! E adesso... Siamo agli ultimi... Siamo al premio maschile... E... E... ...